Buonasera a tutti, si riunisce stasera, il giorno 31 agosto del 2020, la commissione elettorale per la nomina degli scrutatori. Do lettura del verbale numero 25, referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, nomina degli scrutatori e formazione della graduatoria dei supplenti. Il giorno 31 del mese di agosto dell'anno 2020, alle ore 17.30, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione la commissione elettorale comunale con la presenza dei signori. Il sottoscritto nella qualità di vice sindaco, Castiglione Massimo, componente e effettivo, Luca Salvatore, assente il consigliere Pagano e Giuseppe. Assiste con funzione di segretario il signor Collura Antonino, delegato, riconosciuto a legale l'adunanza del Presidente in vita e il Presidente a procedere alle operazioni indicate in oggetto. La commissione, visto il decreto del Presidente della Repubblica il 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Sede Generale 180, con il quale è stato indetto per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre il referendum popolare ai sensi dell'articolo 138 secondo Com della Costituzione, confermativo del testo di legge costituzionale concedente ai modifichi degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 240 del 12 ottobre 2019. Visto l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989 numero 95 recanti norme per l'istituzione del labbo delle persone idonee all'ufficio discutatore di seggio elettorale, successive modificazioni, visto che la legge suddetta dispone che tra il 25 e il 20esimo giorno antecedente alla data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale proceda in pubblica adunanza preannunzata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, alla nomina degli discutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendo le tre nominativi comprese nell'albo degli discutatori in numero pari a quello occorrente, alla formazione di un accreditatore di ulteriori nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli discutatori nominati a norma della lettera A, in caso di eventuale rinunzia o impedimento. Viste il proprio precedente verbale numero 1 del 15 gennaio 2020, con il quale in applicazione della sovracitata legge è stato approvato l'albo unico delle persone idonee all'ufficio discutatore di seggio elettorale, che comprende numero 2958 iscritti, dato atto che il Sindaco in data 28 agosto 2020 ha disposto l'affissione all'albo pretorio nei principali luoghi pubblici del manifesto annunziante alla presente adunanza, considerato che il colpo elettorale di questo Comune è suddivisa in 20 sezioni elettorali, visto che ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970 a 352 devono essere nominati tre scrutatori per ogni sezione, che tale numero viene aumentato a 4 a nome dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, numero 199, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 maggio 2009-46 per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trova l'ospedale e case di cura con meno di 100 posti letto o elettori ammessi a voto a domicilio, considerato che nella circoscrizione territoriale della sezione numero 9 ricada la casa di riposo per anziani di San Vincenzo dei Paoli, che nella circoscrizione della sezione elettorale numero 11 ricada l'ospedale di Bronte e che nella circoscrizione della sezione elettorale numero 16 ricada la comunità all'oggio per l'anziani arabe, fenice e hop, ritenuto pertanto di dover dare corso a quanto previsto dalla più volte richiamata legge per la nomina di 63 scrutatori necessari per la Costituzione dei Seggi per lo svolgimento del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, considerato, quanto so, per il Presidente della Commissione elettorale comunale, invita a procedere alla nomina degli scrutatori con formale sorteggio, come peraltro fatto nelle precedenti consultazioni elettorali. La Commissione elettorale comunale all'unanimità delibera di procedere alla nomina dei complessivi 63 scrutatori mediante estrazione assolte tra i nominativi compresi nel suddetto albo mediante le seguenti operazioni. Vengono inseriti in un'urna 2.958 foglietti singolarmente numerati con il numero corrispondente ad ogni scritto e successivamente vengono estratti 63 foglietti e nominati scrutatori all'unanimità di elettori iscritti nel suddetto albo con il numero corrispondente, trascendendoli raggruppati per seggio nel prospetto allegato. Si procede successivamente con le stesse modalità di sorteggio escludendo i numeri estratti nella precedente estrazione alla formazione di un gradatore di nominativi compresi nel predetto albo e non nominati scrutatori per sostituire secondo l'ordine di nomina coloro che nominati scrutatori non possono assumere l'incarico per rinunze o grave impedimento stabilendo all'unanimità di formare alla graduatoria dei supplenti estraendo numero 20 foglietti corrispondenti ad altrettanti nominativi trascrivendoli nel prospetto allegato. Si dà atto che il prospetto degli elettori nominati scrutatori nonché il prospetto dei supplenti vengono allegati al presente verbale di cui fanno parte integrante e sostanziale che tutte le operazioni che precedono sono state eseguite in pubblica ad un'ansia così come prescritto dalle vigenti norme copia del presente verbale viene trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del Tribunale di Catania e al Presidente della Commissione elettorea. Letto, confermato e sottoscritto. Allora, come preannunciato dal Presidente della Commissione elettorale noi mettiamo nel sacchetto tutti i numeri corrispondenti a quelli che ci sono iscritti nell'albo degli scrutatori. Qua ci sono il blocco dei 200, da 200 a 300, blocco dei 2002 a 2003, da 2009 a 2000, da 2002 a 2003, da 2006 a 2007, da 2100 a 2002, da 2003 a 1400, da 400 a 500. da 2000 a 2100, da 2000 a 2100, da 1400 a 1500, da 900 a 1800, da 700 a 800 da 2004 a 2005 da 300 a 400 da 1100 a 1200 da 1.700 a 1.800 da 500 a 600 da 100 a 200 da 1.500 a 1.600 da 1 a 100 da 2.800 a 2.900 da 2.500 a 2.600 2.600 a 2.700 2.300 a 2.400 2.800 a 2.900 a 1.100 2.700 a 2.800 2.900 a 2.900 a 2.900 a 2.900 a 2.500 se viene qualcuno di voi a dare una mescolata Dategli una mescolata, tutti i numeri sono qua dentro. Allora iniziamo con la sezione numero uno. Allora cominciamo l'estrazione, ovviamente, lo devi girare, lo devi fare vedere. 646, cipolla, nunsiello, bronte, 25, 4,980. 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 Bronte, 8, 2,990. 748, 1738. Neli, nunsio, bronte, 10, 5, 1949. Questa è già una sezione che si è chiusa. La prima sezione si è chiusa. Ora la seconda che è 2.340. 2.840. Triscari, Gianluca, 18, 2, 1983. Bronte, 426, 426. Cartillone, grazia, bronte, 3, 12, 1962. 6, 2. 3, 12, 1962. 6, 2. 715. 715. Corica, Alfio, bronte, 22, 08, 1974. 864. 864. 864. 864. Montagno Salvatore, bronte, 8, 12, 1980. Montagno Salvatore, no, senza Bozzone. 864. 864. 864. 864. 864. 864. 864. 864. 964. 964. 867, 69. 966. 867. 966. 1066. 966. 967. 967. 966. 1066. 1066. 1066. 937. 1066. 666. 1.593. Mamone Sonia, Bronte 8-9-1992. 1.607. 1.607. Manera Ignazia, Bronte 14-3-1982. 14-03-1982. 148. Vaticani, Eugenio. Catania, 24-03-1994. 14-03-2048. Petralia, Giulio Domenico. Bronte 11-6-1982. 92. 1.992. Avevamo capito, 82. 92. 92. 92. 92. 2.120. Ponzo Michele, 7-10-1995. Sezione numero 6. 1.600... 1.673. Sezione numero 6. Meli, Anna-Lisa. Bronte 26-07-1978. 1.673. 1.673. 7-8. 2.716. Sortino Maria Grazia. Catania, 15-02-1938. 82. 82 anni. 82 anni. 1.193. 1.193. 1.193. 1.193. 1.193. 1.193. Guarnera Massimo. Bronte 29-1976. 19-1976. Sì. Sezione 7. C'è qualcun altro che vuole estrarlo? 2.409. Saitta Giuseppe, Castellammare di Stabbia, 2.5.1968. Sì, a qualsiasi tempo, soldati. Li devi prendere quando non li prendi. La misca prima di questo. Quando ti prendi la mano può fare che... Vanno a dare un dicembre. Quando non dice passo. Posso? Ah, d'accordo. 2.870. Senatore Giuseppe, capitolo 3.79. L'ha scritto? 2.870. Sì. 90. Spavento. Attinà Ignazia. Bronte, 8.1.1960. Vieni, salvatore. No, vieni, 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 vieni a prendere qualcuno anche tu. Dai. Fate un po' con ciascuno. Pietro, tu non vieni a prendere, Pietro. Pietro, vieni. Uno. Uno, dai. Eh, vieni. Eh, no. Senza guardare. Eh, perché mi faccio non mi prendere una volta. 2.585, sezione numero 8. Mi tirò con che? Certo. 27.575. Mettiti qua dietro. 1.647. Marullo Nicola, 5.180. 2.440. Salvatore. 2.440. Saitta Rosalba, Bronte, 11.10.78. 7.8. 1.10.78. Sì. 890. 890. Non ci vedo, non l'ho mai fatto. Pavazza Carmela, 18.10.76. 1.841. Montagno Filippo, 3.576. Spataro Maria. Spataro con l'attito di Torino. Bronte 17.05.54. 1.543 Luca Biaggio, Bronte 23, 69 1.543 Luca Biaggio, Bronte 23, 69 Emanuele, Bronte 35, 96 30 maggio 1996 2.945 Vito Giorgiazzo Flavia 29, 12, 89 29, 12, 89 2.593 Quanto? 2.593 Stiliro Giovanna, 24, 2, 68 Sezione numero 11, giusto? Certo 856 Fallico Gianluigi, 14, 7, 79 2.493 2.493 2.493 Scusa Scusa 14, 7, 79 2.491 San Filippo Donato 13, 2, 82 2.593 Tettinato Angela, 13, 11, 75 Sezione numero 12, giusto? No, sempre 11 Ah, sempre 11 C'è l'ospedale 1631 Martire Maricla San Giovanni Infiore 18, 9, 87 Martire Maricla 18, 9, 87 2213 2213 Reitano Antonino 19, 64 174 174 Biuso Biagio 6, 11, 76 18, 76 Non vuoi venire a prendere? Non può Scaramanzi E' indiviso 1872 Montagno Montagno Cappuccinello Carmelo 1, 6, 98 Sezione 13 Stiamo iniziando La 13 Sì 1, 679 Meli Antonio Meli Antonio 8, 10, 84 2, 34 2, 336 2, 336 3, 389 3, 346 3, 494 Caprino, Campana, Elena Bronte 18581 Passiamo alla 14 1204 Gulino Maria Rita Bronte 17168 La sforza di Carlo Castiglione 1219 Guzzardi Mariella 14384 2298 Russo Antonina 15456 Sala 15 Sì 428 Martiglione Maria Domenica 11688 88 474 Caserta Enrico Catania 23788 Scommetto che lo conosce 23788 2518 San Filippo Gritto La Maurizia 16 11 73 Che era la 15 No no Questa è qua la 15 Passiamo alla sezione 16 Cufighi Savino Che per una sezione Non dovutamo magari Anarci 311 Calandra Lucia Calandra Lucia Calandra Lucia 8769 Che sono 2696 2696 2696 Sgro Serena No 25 1078 Chiaramente Ma vedi che cosa 334 Alì Maria 8769 Dio Sacerdote Pristiana Che numero è? 309 79 8679 300 Che hai detto? 334 149 Passiamo alla 17 Passiamo alla 17 1618 1618 Marco Antonio Marco Antonio Giuseppe 2272 Mascara E' chi si? Guarda E' chi si? C'è un sappino 2370 Saizza Alessandra 14 598 Aspetta 2370 Sezione 18 No Ancora la 17 Ne ha 4 No 16 No 16 ne ha 4 17 565 Catania Viaggia 22 969 22 969 69 9 1387 1387 Liuzzo Scorpo Rita 14 12 71 654 654 Ciraldo Giuseppe 2 Agosto 54 2830 2830 2830 2830 Triscali Triscali Maria Teresa Ausilie 8 10 63 Triscali con la L Maria Teresa Maria Teresa Ausilie La conosciamo? Sì 8 10 63 2936 Siamo passati alla 19 Sì Siamo alla 19 Sono 2936 Signale 936 Come la 19? Questa Sono l'ultima Della 18 18 E questa è la 19 2000 Non è che alla 16 C'era la segnata 4 Da 16 erano 4 A 16 si ferma A Lombardo No A Cantoni Io c'ho sicuro No A Cantoni Il primo Della 17 Giusto signore? 16 Meno male che mi stai segnando Allora la 16 E sono 4 Poi la 17 E la 18 Allora è messa a 4 1 La 18 dovrebbe essere Liuzzo, Cilaldo e Triscali Liuzzo Allora è quale La 15 Cartillone, Casetta San Filippo La 15 Inizia con Castillone Finisce con San Filippo E appunto questa doveva andare qua E qua sono 4 segnali però Nella 15 Io sono andato per l'ordine Aaaaaa C'è il prospetto Il prospetto Il prospetto C'è dell'ordine C'è dell'ordine Che c'è dell'ordine Cerc statue Il prospetto Siamo alla prima estrazione della 19, il numero ce l'hai tu, il 2936, Zingale Stefano, 15,791, 1027. Gangi Gaetano, 45,77, 405. Caraci Nunziatina, 10,1,77. Siamo alla sezione 20. Abbiamo chiuso con la 19, ora siamo alla 20. 1780. Messineo Luigi, 9684. 2837. Triscari Biagia, 2271. 706. Cordaro Alessia, 4897. Abbiamo finito, mi parlo. Abbiamo finito, ora facciamo i supplenti. 20 abbiamo detto. No, ancora sono. E i 20 supplenti. 20 supplenti. Ok. Proprio ho detto che sono un pubblico. In generale! Abbiamo chiuso apportare materialino. Abbiamoаго. Abbiamo già fatto 350. Procediamo. 146. Vaticani Alberto. 25, 10, 89. 1759. Merendino Fabio Antonio. 5, 10, 78. 145. Vaticano e Maria Catena. 8, 1, 61. 2097. Politi Maria Usilia. 13, 7, 90. 15, 58. Anastasi Salvatore. 29, 3, 69. 368. 368. Capace e Maria Catena. Non è riuscita. Perché si fa così Capace? Quindi che 2, 2, 2. Capace e Maria Catena. 18 anni. 18 anni. Perché si fa così? Giovanissimo. Forse era più giovane. 2, 2, 2. 2, 422. Saitta Maria Cristina. 28, 4, 86. 1, 651. Marullo Vincenza. Marullo Vincenza. 2, 1, 62. 2, 1, 62. 2, 712. Sofia Salvatore. 22, 11, 65. 6, 5. 1, 0, 6, 7. 1, 0, 6, 7. Gatto Antonio Domenico. 7, 9, 72. 5, 5, 5, 5. 6, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8. 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8. 803, Di Marco Nunzio, 13173, 143, Vaticano e Giovanna Sabina, 19, 2, 73, a tutti, 73, 1878, Musarra, Pizzo, Patrizia, Pizzo, Musarra, Pizzo, 1878, ah, 78, scusate, 25, 7, 846, questo è il quindicesimo, 846, Faia Gaetano, 28, 44, 2583, Schilirò, Biagio, 12, 9, 71, 7, 1, 534, Castiglione, Venera, 11, 11, 65, 6, 5, Gli ultimi due, anzi, gli ultimi tre, 65, 195, Boemi, Vincenza, 27, 65, 27, 65, ultimi due, 230, Bonfiglio, Romina, 43, 77, L'ultimo, Bonfiglio, Romina, 43, 77, l'ultimo, 80, 80, Arcoria, Antonino, 12, 2, 79, 80, Grazie.